Dottor Guido Gini, che cos'è il linfoma mantellare? L'infoma mantellare appartiene ai linfomi non Hodgkin. I linfomi non Hodgkin sono una famiglia di malattie che contengono oltre 108 sottotipi di malattie diverse come andamento clinico e anche andamento prognostico differenti. Il mantellare appartiene a quel gruppo di linfomi cosiddetti aggressivi, quindi con una capacità replicativa più alta e rappresenta circa l'8% di tutti i linfomi. I linfomi come famiglia non Hodgkin rappresentano il settimo tumore più frequente, quindi non è una malattia così rara.